Un ultimo desiderio, madame, sigaretta? Ah, lei è molto carino, ma sa fumare la mattina e mi toglie l'appetito. Comunque grazie. Gradisce un liquore? Oh no, bere prima dei pasti mi fa girare la te... Ma la testa? Allora, un caffè? Cosa? Figuriamoci, stanotte non potrei chiudere occhio. Madame, forse lei non si rende conto. Non avrebbe un charms per caso? Ma certo, madame, un charms moppanna. Buono, ma ci sarebbe qualche altro gusto? Erbe alpine, madame. Squisite, però ha solo questi due. Sargent, i charms! Sì, sì, avanti, sceglia. Sì, ma veramente non ci sono tutti... E' impossibile, qui ci sono tutti i 38 gusti charms! Io volevo un charms o vale ripieno. Sergente, come mai non ci sono i charms o vale ripieni? Non lo sgridi così, poverino. Anzi, non glielo ho detto prima, ma ce li ho io. Posso offrirgli anche i suoi soldati? Su, non dica di no, eh. E va bene. Ehi, ragazzi! Soldati! Un po' di dignità per venci! Un po' di dignità per venci!